Professor Vile, innanzitutto come ci inquadra un'iniziativa come questa dedicata a Palma al Vecchio? Palma al Vecchio è una mostra che vuole essere una mostra per raccontare Bergamo, grande capitale della terraferma della Repubblica Serenissima di Venezia, ma soprattutto è una mostra che vuole oggi riposizionare la città, i suoi comparti economici, i suoi comparti sociali e soprattutto dare una speranza per il futuro ai giovani della nostra Università. Sostanzialmente abbiamo immaginato intorno a una grande mostra d'arte, Palma al Vecchio è qualcosa che molti hanno tentato di fare, molti musei del mondo, ma nessuno è riuscito a realizzare, ebbene intorno a questa mostra d'arte riuscire a coagulare le eccellenze della nostra città e della nostra provincia. Perché Palma è stato insieme a Giorgione e Tiziano all'inizio del Cinquecento colui che ha rinnovato la grande pittura della Serenissima Repubblica, che vuol dire ha rinnovato la pittura europea attraverso nuovi soggetti, grandi soggetti femminili, la sensualità della donna veneziana portata a modello ideale nel mondo occidentale, ma nello stesso tempo è l'artista che sottolinea un legame indissolubile tra Bergamo e Venezia, un legame che è stato fatto di grandi industrie, di grandi imprese, di grandi eventi culturali. Attraverso questa mostra vogliamo provare a raccontare tutto questo e soprattutto a sottolineare quanto ancora oggi Bergamo sia una capitale nel mondo per la bellezza del suo paesaggio urbano, del suo paesaggio naturalistico, per l'eccellenza assoluta delle sue industrie e delle sue imprese attraverso tutta una serie di operazioni che dalla scintilla Palma legheranno complessivamente la città. L'Expo è sicuramente un'occasione e l'Università di Bergamo è intenzionata a fare la sua parte? Direi di sì, abbiamo unito un obiettivo strategico per l'Università che era quello di recuperare la chiesa di Sant'Agostino all'interno del complesso che già l'Università utilizza per i suoi ragazzi, per i suoi studenti, con la possibilità di creare un evento eccezionale in concomitanza con l'Expo che faccia diventare la città di Bergamo davvero al centro dell'attenzione e punto di passaggio quasi necessario per tutti coloro che parteciperanno a questa grande iniziativa del 2015. Non è stato facile mettere insieme tutte queste circostanze ma grazie all'aiuto del nostro Professor Villa, direttore del Centro Arti Visive dell'Università, grazie all'aiuto della Fondazione Cretto Bergamasco e del Comune che ci ha dato il progetto esecutivo in tempo utile, noi confidiamo molto che questa possa essere un'iniziativa del sistema Bergamo a promozione di tutta Bergamo, sia la città che la provincia. E non è sicuramente facile mettere insieme una mostra dedicata a Palma al Vecchio. Non è facile, è stato bene descritto da chi ha più competenze di me, che si tratta di un autore particolare, però crediamo che la città, la sua città, senta il dovere di riconoscere le opere che ha fatto, il suo accreditamento presso la Repubblica di Venezia e un ricordo che parta dalle istituzioni culturali delle città.